Bene, buongiorno a tutti, benvenuti alla Fiera di Genova, da un caloroso benvenuto a tutti voi presenti, ai giornalisti, a tutti i musicisti e gli appassionati di musica qua presenti oggi. Siamo felici di essere qua in Fiera, alla Fiera del Mare, per presentare questa seconda edizione della Fiera Internazionale della Musica. Ringrazio il nostro ufficio stampa Giulia Iannello per aver organizzato questo importante appuntamento. Vedete delle telecamere, c'è Ria Live che riprenderà la conferenza stampa in streaming. Qui con me voglio presentarvi Angelo Berlangieri, Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo della Regione Liguria, Carla Sibilla, Assessore alla Cultura, Turismo e Comune di Genova, Sara Armella, Presidente della Fiera di Genova e il Direttore Verdiano Vera, ed attore del film Fiera Internazionale della Musica. Ora, senza ulteriori indugi, diamo subito la parola all'Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo della Regione Liguria, Angelo Berlangieri. Io volevo fare innanzitutto i complimenti a voi, i complimenti al Presidente della Fiera per questa iniziativa, che come ho detto a chi mi ha prima chiesto un commento, rappresenta un momento importante da due punti di vista. Il primo è quello di andare incontro a questo lavoro che Sara sta facendo ormai da un po' di tempo, con grande presenza e con decisione e convinzione di diversificare l'offerta espositiva dei padiglioni fiaristici. Questo è un modo nuovo per utilizzare i padiglioni fiaristici e dargli dei contenuti che non sono quelli usuali e tradizionali. L'altro elemento di valore è che mette al centro dell'attenzione, questo momento espositivo, uno dei temi centrali dell'offerta culturale, ma anche dell'offerta turistica della città di Genova e della Liguria, che si chiama Musica, spesso ce lo dimentichiamo, ma Genova è la città della musica, come dice sempre la mia amica Correga, Carla, nel suo peregrinare per il mondo, con questo suo lavoro molto puntuale, e anche lei vanno fatti due donne straordinarie, cioè ai miei fianchi, l'uomo al centro è quello più scarso. La Genova è città della musica, ha un valore straordinario che spesso ci dimentichiamo di utilizzare e di valorizzare, perché siamo la capitale mondiale della scuola dei canto autori, ma non solo, abbiamo delle tradizioni culturali che risalgono quasi dalla notte dei tempi, ma anche il resto della Liguria, straordinariamente legata alla musica, non soltanto perché tra poco ci sarà l'edizione solita del Festival di Sanremo, ma anche per tutto il resto dell'attività che si svolge e che si fa. E musica, cultura sono, d'altra parte, un tema centrale, anche per l'altra cosa di cui cerco di occuparmi, che è quello dello sviluppo dell'economia del turismo, perché oggi più che mai fare turismo in questo mondo globalizzato, essere, come si dice, glocali, cioè capaci di mettere al centro dell'attenzione del mondo l'identità di un luogo, che però non è una cosa chiusa in se stessa, ma è un elemento anche di identità e di buona pratica per il resto del mondo, è glocale, globale, scusate l'uso di questo gioco di parole, è la chiave di volta per essere competitivi in maniera efficace ed efficiente. Quindi una bella conferenza stampa, un bel momento, ho accettato con piacere di essere qui presente proprio per testimoniare, nel mio piccolo, l'importanza che la Regione dà alla fiera e anche a un evento come questo, che avrà sicuramente lunga vita e grande successo. Grazie. Grazie. Grazie all'assessore Berlangeri. Adesso diamo la parola all'assessore alla cultura e al turismo del Comune di Genova, Carla Sibilla. Bene, buongiorno a tutti. Sì, come diceva il collega Angelo Berlangeri, musica e cultura sono la coerenza che ha tutta la nostra Regione, oltre che a uno spettacolare ambiente chiuso tra mare e monti. Ed è quindi proprio perché la cultura è un fil rouge che lega tutta la nostra Regione e ha con Genova una storia lunghissima, a partire da Paganini, avete citato i cantautori, Fabrizio De Andrè e da loro si è poi espansa in conservatori, in scuole, in oltre 350 gruppi indipendenti che fanno musica, che siamo, per tutti questi motivi, siamo veramente felici che questa seconda edizione avvenga a Genova. abbiamo già con gli organizzatori previsto tante interconnessioni con la città affinché partecipi anche tutto il territorio e affinché sia un'occasione poi per chi viene alla fiera di, per esempio, fare i percorsi di vita di Fabrizio De Andrè o altri in città. Ecco quindi che pensiamo sia una bella occasione e una grande opportunità sia per la nostra città che per la Regione, ma anche per tutti coloro che verranno alla fiera a un'occasione per conoscere e approfondire anche tutto quello che sta dietro alla musica. a maggio, peraltro, con la bella stagione sarà anche un periodo proprio ottimale per visitare la fiera con quest'affaccio sul mare, in questo posto comunque straordinario e appunto ripercorrere anche la conoscenza di quelli che sono la storia musicale della nostra città che pensiamo possa dare un valore aggiunto e essendo molto sentita una anche importante partecipazione. Quindi benvenuti, buon e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie mille a Carla Sibilla e adesso diamo la parola al Presidente della Fiera di Genova, Sara Armella. Grazie. Ringrazio Verdiano Vera, tutto lo staff e sul versante di Fiera di Genova ringrazio ovviamente il nostro ufficio commerciale, in particolare Beppe Mistretta, che come appassionato, anzi come musicista è stato il primo a intuire la possibilità di coinvolgere qui proprio in Fiera di Genova la Fiera internazionale della musica e da un dialogo tra appassionati, no? È nato poi qualcosa di più concreto ed eccoci qui oggi a testimoniare ancora una volta tutta la nostra voglia, la nostra vitalità, la nostra passione per il lavoro che facciamo qui in Fiera. Soltanto due giorni fa abbiamo inaugurato la pista di atletica e ha rimesso a calendario tutta una serie di appuntamenti che coinvolgono non solo il Lord Ovest ma a livello nazionale il mondo dell'atletica leggera. Nei prossimi mesi quindi ci sarà una caratterizzazione forte sul tema proprio delle passioni, dello sport. Abbiamo chiuso ieri la mostra antica che è andata molto bene, dal 14 al 17 ci sarà Arte Genova, poi una serie di appuntamenti legati alla numismatica, alla filateria. Insomma, veramente stiamo lavorando con grande passione tutti insieme e ringrazio particolarmente i nostri dipendenti che testimoniano una quotidiana e costante volontà di superare questo momento di difficoltà che la crisi ha purtroppo caratterizzato. Noi però ce la mettiamo tutta e questo è veramente il sintomo di un appuntamento importante in un quartiere fieristico che non dimentichiamo negli anni ha ospitato i Beatles, ha ospitato Vasco Rossi, Elton John e tantissimi altri protagonisti della scena musicale internazionale, Frank Sinatra. Quindi ci fa proprio piacere che anche sotto profilo non solo di una città importante e fondamentale, come è stato ben ricordato da Angelo e da Carla, per tutta la storia e la cultura che da Paganini arriva ai cantautori, ma anche come quartiere fieristico, attraverso la testimonianza che possiamo portare di eventi molto significativi e di successo e di grande contenuto, oggi ci troviamo a riaccogliere un altro importantissimo evento che è questa Fiera Internazionale della Musica. Noi confidiamo appunto che anche il periodo estivo saprà presentare al meglio un quartiere fieristico unico a livello internazionale affacciato sul mare con una grande proiezione rappresentata da questo padiglione Giannouvelle, quindi siamo molto contenti, ce la metteremo tutta perché questa edizione che si svolge per la prima volta a Genova abbia a proseguire negli anni successivi con lo stesso entusiasmo e la stessa passione e davvero insomma vi aspettiamo a maggio, grazie. Grazie mille per queste belle parole sulla Fiera da parte del Presidente Sara Armella e adesso diamo la parola al direttore e ideatore della Fiera Internazionale della Musica, a qua a fianco a me Verdiano Vera. Bene, innanzitutto un ringraziamento a tutti i ragazzi dello staff Maya e a tutti i ragazzi ai volontari dell'Associazione di Promozione Sociale dell'Alveare che da diversi mesi insieme a me e a mia moglie stanno portando avanti questo progetto. Un grazie anche a Giuseppe Mistretta che ci ha coinvolto, ci ha portati qua a Genova e un ringraziamento a uno dei miei collaboratori che in questo momento è in California al NAM, una delle maggiori fiere mondiali per la musica. Noi crediamo che la musica in questo periodo a Genova stia cercando una casa, la musica in Italia non ha un punto di riferimento importante ed è proprio con quest'idea che abbiamo creato, abbiamo inventato nel 2012 la Fiera Internazionale della Musica e l'abbiamo realizzata poi all'interno dell'Ippodromo dei Fiori di Villanova d'Albenga in provincia di Savona. Questo evento vuole porsi come un punto di riferimento per i musicisti e vuole mettere il musicista al centro dell'attenzione. Qual è la ricetta che abbiamo utilizzato per creare questo evento? Dunque, si prendono 200.000 metri quadrati di spazio, quindi va benissimo un Ippodromo. Ci si costruisce al centro una tendostruttura più o meno grande che possa contenere circa un centinaio di espositori che abbiano attinenza con la musica, quindi produttori, distributori, rivenditori di strumenti musicali, case discografiche, agenzie di management, scuole di musica, associazioni, media partner. Poi si costruiscono 5 palcoscenici all'interno dell'Ippodromo in modo tale che non si diano fastidio fra di loro. Su questi palcoscenici ci si organizzano circa 150 concerti in due giorni, si invitano personaggi più o meno famosi, si premiano, quindi si costruisce tutta un'organizzazione per premiare questi personaggi che noi abbiamo chiamato CAPAM, cioè Commissione Artistica per la Promozione dell'Arte e della Musica. Si organizzano una ventina di seminari per dare all'evento un'importanza anche culturale e si coinvolgono più media partner possibili per far sì che questo evento venga divulgato, venga diffuso e per far sì anche che i musicisti all'interno dell'Ippodromo possano in qualche modo avere una voce anche in esterno, quindi dire la loro, pubblicizzarsi, promuovere la propria musica. Tutto questo l'abbiamo riassunto grazie a Matteo Malatesta, il nostro regista, in un filmato brevissimo, uno showreel che è un riassunto un po' di quello che è stato il film del 2013 che adesso vediamo. Grazie a tutti. 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 nomi di quelli che saranno presenti qua in fiera e per presentarvi questi nomi abbiamo un altro filmato brevissimo che ha realizzato sempre Matteo. Il filmato brevissimo che ha realizzato sempre il filmato brevissimo che ha realizzato sempre il filmato brevissimo. Questi sono tre personaggi che per noi sono molto importanti, si tratta di Eddie Kramer, produttore di Jimi Hendrix, tecnico del suono famosissimo a livello mondiale, tecnico del suono dei Beatles, dei Rolling Stones, di Santana e di tantissimi nomi. Lui sarà presente per tutti e tre i giorni alla fiera internazionale della musica, viene da Los Angeles e per noi sta preparando uno show, chiamiamolo così, in cui lui con le foto che ha lui di quando lavorava in studio con questi grandissimi personaggi, ci narrerà un po' gli aneddoti di quegli anni e quindi per noi è un evento molto importante. Ci sarà Bobby Kimball che è il cantante dei Toto, come avete potuto sentire dalla canzone, e lui verrà premiato come miglior voce. E poi ci sarà Colin Orfield, un'altra persona, un grande della musica appunto, perché è il tecnico del suono dei Pink Floyd, adesso ultimamente anche in tournée con Zucchero, per cui un personaggio che noi premiamo come miglior fonico live, front of house. Fra i premi nazionali, Kappa ma ancora non si è espressa, abbiamo i primi nomi ma ci si sta ancora lavorando, per cui non vi dirò ancora nulla. Mentre invece vi posso dire i nomi degli artisti che saranno premiati per quanto riguarda la regione Liguria. Innanzitutto i Buio Pesto, saranno premiati come musica Ligure nel mondo, loro faranno un concerto il sabato 17 e avranno anche uno stand all'interno dell'area espositiva sulla musica genovese, sulla musica Ligure. Avremo i Tua Madre, per chi non li conoscesse, i Tua Madre sono una band emergente che si sta facendo notare a livello anche nazionale, vincendo diversi concorsi, loro fanno un concerto sempre il sabato sera, sabato 17 maggio, e avranno anche loro uno stand per vendere il loro merchandising e i loro CD. Avremo l'orchestra Bailam, che sarà premiata per la tradizione Ligure. L'orchestra Bailam ultimamente sta cercando di esportare, è una delle poche realtà Ligure che sta cercando di esportare la musica anche all'estero e quindi è importante che ci sia all'interno della Fiera Internazionale della Musica. Premieremo Claudia Pastorino come miglior cantoattrice Ligure. Lei è uscita ultimamente con un album molto bello e quindi sarà presente in fiera proprio per presentare quest'album e farà uno showcase. Ne avremo tanti altri, ma adesso vi dico, l'ultimo che vi dico è Roberto Tiranti, che è un'altra voce per noi molto bella, lo stiamo ascoltando ultimamente in diversi concerti in beneficenza qua nei teatri genovesi. Gli altri, fra gli altri eventi che avremo alla fiera, il Riviera Prog Festival, un evento che lo scorso anno ha riscosso molto successo e organizzato e diretto da Massimo Gasperini di Black Widow Records, DJ Mania appunto con la presenza di numerosi DJ, il Museo che suona è una collezione di 190 strumenti provenienti dall'America Latina, avremo i seminari di A.S., Sound Engineering Society, che sono seminari rivolti ai tecnici del suono, l'esibizione dei ragazzi del Conservatorio Niccolò Paganini che verranno in ben 80 persone a esibirsi, l'esibizione dei ragazzi di Ti lascio una canzone, il noto programma televisivo, poi avremo un esemplare unico di un pianoforte che per la prima volta viene presentato proprio all'interno della Fiera Internazionale della Musica, non posso dirvi ancora tanto perché questo pianoforte è in costruzione, verrà ultimato soltanto a febbraio, però vi dico che sarà presente alla fiera. Poi il Soundtrack Festival, il Film Rock Festival, il Film Tribute Festival, dedicati appunto alle colonne sonore, alle band emergenti rock e alle tribute band, alle cover band. E poi avremo due palcoscenici già ora pieni di concerti e showcase, con circa 90 band che nei tre giorni si esibiranno non stop. Fra le partnership che fino adesso abbiamo raccolto in questo evento abbiamo SCT Sistemi Controllo Traffico, che è uno dei nostri partners che ci accompagna fin dalla prima edizione, loro ci aiutano molto nelle scelte strategiche, AMT, che è nostra partners, per questo c'è da dire che noi cerchiamo di incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici per lo meno nei tre giorni della fiera, per cui chi arriverà in fiera con il biglietto dell'AMT avrà diritto ad uno sconto. La stessa cosa verrà fatto con i Radiotaxi, è un altro nostro partner. COP Liguria è fra i partner della Fiera Internazionale della Musica. COP avrà un laboratorio all'interno dell'area espositiva dedicato ai bambini e in questo laboratorio costruiranno strumenti musicali da materiale riciclato, quindi una bella iniziativa. Avremo Liguria Inn, Business Club, che prima ho già citato, le Stazioni Marittime di Genova, che ci stanno mettendo a disposizione uno spazio per pubblicizzare film, e Pegaso System, che è uno fra i nostri partner tecnici, loro ci forniranno delle luci particolarissime, poi avremo modo di presentare magari in una prossima conferenza stampa. Ecco, questa è solo una presentazione di massima di quello che sarà l'evento. Ovviamente bisogna tenere in considerazione che mancano ancora quattro mesi e che stiamo raccogliendo tutte le adesioni da parte di tutti i gruppi musicali, musicisti interessati, che sono tantissimi, quindi anche per noi è molto difficile riuscire a rispondere a tutte le richieste che abbiamo. Comunque, tutte queste informazioni le trovate sul nostro sito web, che è www.finfiera.it, curato da Linda Cavallero, e su questo sito web è possibile trovare proprio anche tutti i concerti, e tutte le manifestazioni che ci saranno, che saranno visibili soltanto da oggi, pomeriggio, cioè dopo questa conferenza stampa. Ringraziamento a Verdiano Vera per questa splendida fotografia della Fiera Internazionale della Musica. Ma adesso scendiamo ancora più nello specifico, chiamando qua i vari direttori artistici dei vari eventi all'interno della fiera di cui Verdiano ha parlato poco fa. Quindi chiamiamo subito, che è già qua, pronto, Massimo Gasperini, che è il direttore artistico del Riviera Progo Festival. Buongiorno a tutti. Sono contento di vedere una così massiccia rappresentanza della stampa, perché guardate che il successo del film dipende soprattutto da voi, ovvero sia dallo spazio che il film avrà nelle varie testate giornalistiche. E' molto importante, è un'occasione da non perdere, quindi ragazzi metteci la tutta, dateci lo spazio che meritiamo per una volta. Perché io non so, ma se definirli dei pazzi o dei geni, Verdiano e Linda, ma hanno messo su una cosa che, devo dire, io mi occupo di musica rock da sempre, ma non avrei mai pensato che Genova un giorno sarebbe arrivata una cosa del genere. Guardate, guardate, siete due mostri, non lo so, un grandissimo applauso a voi, veramente, bravo. Allora, sì, l'anno scorso ha risposto al Benga, due anni fa per il Progo Liguria, una manifestazione che abbiamo fatto in favore degli alluvionati, ha risposto la Spezia, finalmente Genova. No? Ok, ci siamo. Vi presento un po' di nomi dei gruppi che faranno parte della nostra rassegna, il festival chiamato Riviera Prog Festival. L'anno scorso abbiamo avuto Claudio Simonetti, quest'anno abbiamo detto lasciamo la casa, perché ci sono tanti altri gruppi che devono suonare. Quindi è un work in progress, quindi, come ha detto lui, anticipiamo qualcosa, il resto nel tempo. Dunque, avremo Aldo Tagliapietra, è la sua band, è inutile che vi dica chi è, comunque è la storica voce delle orme, verrà a presentare il suo nuovo album, e vi dico già che è un album strepitoso, ma farà anche pezzi delle orme. Poi avremo Gli Osanna, uno dei gruppi più importanti della musica progressiva italiana di tutti i tempi, che verranno a presentare questa cosa qua. Si chiama Tempo, è un'opera incredibile che abbiamo fatto noi. Sono due DVD, ci sono due concerti, tra l'altro uno al Chiavrera, al Chiavrera di Savona, un concerto bellissimo, un altro a Napoli, e in più contiene tutti i video stories dell'archivio Rai, quindi una cosa molto complicata da fare, ma che siamo orgogliosi di aver fatto. Bene, poi ci sarà una band genovese, attenti a questa band, non sottovalutatela, perché è una band molto importante. Prima sentivo parlare che Genova, che Genova è la capitale della musica in Italia, è vero, noi siamo in via del campo, quindi la via della musica, nella capitale della musica. Ecco, questa band giovane, si chiama il Tempio dell'Eclessidre, è una band che ha fatto già due dischi, questo è il primo, vedete, questo è il primo, e voi siete lì, non potete vederlo, ma qua dietro c'è scritto Licensed to Korea, quindi la Korea si accorta di questa band, l'ha invitata, ha comprato la licenza del disco, e l'ha stampata in Korea, i giapponesi ne vanno pazzi, l'anno scorso hanno suonato nel più grande festival americano, che si chiama Near Fest, insieme ai Van Der Graf, tanto per dire una cosa, questa è una band da non sottovalutare, questo è il nuovo album, che verrà presentato apposta al film, si chiama Alienatura, ok? Questo è il Tempio dell'Eclessidre, ci saranno i Glimen, i Glimen sono stati la prima band italiana, a passare dal beat alla psichedelia, poi presto diventeranno Garibaldi, Garibaldi di Bambi Fossati, ecco, Verdiano prima vi ha parlato di questo show, che dedicheremo a Jimi Hendrix, che chiuderà il primo giorno del film, per quanto riguarda la musica rock, ecco, a Genova, noi abbiamo il Jimi Hendrix italiano, che è appunto Bambi Fossati, quindi, diciamo che questa James Session, qua la dedicheremo anche a Bambi, cosa dici? Anche perché Bambi sta male, sta molto male, purtroppo, e sarà comunque un piacere dedicargli uno spettacolo con la musica di Jimi Hendrix, anche perché la band che praticamente farà da sezione ritmica saranno i Glimen, quindi la sua band, si avvicenderanno moltissimi musicisti, ve ne cito qualcuno, ci sarà Cervetto, che conoscete tutti, ci sarà Tolo Marton, Tolo Marton, un chitarrista incredibile, che ha ricevuto addirittura un premio Jimi Hendrix in America, è una cosa molto importante, ci sarà il devastante Marco Zuccheddu, ok, culotta, invito Maragliano a suonare, magari venire su, prendere le bacchette e fare qualche pezzo, di Jimi Hendrix, va bene, basta, altri ospiti per adesso, per Jimi Hendrix non ne direi, qualche altro nome riguardante i tre giorni del festival, ci saranno gli Alfa Taurus, gli Alfa Taurus sono una band che negli anni 70 venne lanciata da Vittorio Descalzi, questo è il loro album, sono tornati l'anno scorso e ne hanno fatto un altro, e ce lo vengono a presentare apposta, poi la Locanda delle Fate, altra band strepitosa, del progressivo italiano, il lato più melodico, e vorrei dirgli qualche altro nome, ma sinceramente, per adesso basta, Viglie Verdiano stiamo lavorando e ha delle proposte molto interessanti, fermiamoci qua, ok, ma sarà uno spettacolo. Grazie, e adesso passiamo al direttore artistico di G Mania, quindi Francesca Cavana, che invito ad accomodarsi, grazie Francesca, che ci parlerà proprio della parte di festival, riguardante la musica della discoteca DJ. Grazie, buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei presentare questa area DJ Mania per il primo anno presente in fiera, è l'area super innovativa, di tendenza, rivolta alla musica dance, electro house e non solo, mega performance DJ emergenti, sino ad oggi ce ne sono già 60, DJ professionisti e artisti nazionali, radio, prettamente dance, con cui si lavorerà proprio in sinergia, palco e dirette, e ancora scuole per DJ nazionali, associazioni per DJ, service, audio, luci di altissimo livello, e ancora tecnologie e tanti speciali show, come ad esempio l'attrazione fortissima, è appunto lo show di due robot fluo show, alti 3 metri, che si esibiranno su questo mega palco dell'area DJ Mania, e ancora schiuma party, esibizioni con console di ultima generazione, touchscreen, screen, poi ancora, non vi possiamo annunciare, gli special guest nazionali, che si esibiranno sul palco, DJ Mania, però insomma, c'è qualcosa davvero, che bolle in pentola, un ringraziamento speciale, lo devo fare anche per, questa collaborazione, che c'è con noi da anni, con il signor qui presente Mario Di Gioia, e l'associazione Asso DJ, che io ringrazio, bene, tutto qua, e penso che possa già bastare, grazie Francesca, grazie a voi, per la tua concisa analisi, del festival DJ, grazie mille, è stata molto chiara, spero che il messaggio di questo, bell'evento all'interno della fiera, sia arrivato bene, e adesso invitiamo, appunto, ne parlavamo prima, Roberto Maragliano, direttore artistico di Maya Records, grazie, grazie Francesca. Buongiorno e grazie, benvenuti, ve l'hanno già detto, ma io amo ripetervelo, rinnovo i complimenti a Verdiano, ringrazio le autorità, qui rappresentate. Allora, io mi soffermerai, soltanto pochi minuti, su l'area Meet the Music, qual è il senso dell'area Meet the Music? Nasce, come dire, da l'esperienza, che con Verdiano condividiamo, dell'aver partecipato a eventi e fiere, soprattutto all'estero, dove, in un luogo deputato all'incontro di persone che fanno musica, addetti ai lavori, ci si incontra, ci si confronta, e si pensa alla musica, non soltanto come forma d'arte e cultura, che è, come dire, una valenza estrinseca che si può percepire, ma anche alla musica come business, no? che è un aspetto che può sembrare in qualche modo svalutativo, in verità, come tutte le attività, la musica, per poter sopravvivere, chi la fa, chi la produce, chi la diffonde, ha bisogno di trarne sostentamento, non dico speculare, ma, come dire, in qualche modo sopravvivere, io vengo da, come dire, una esperienza personale di musicista, ormai da moltissimi anni, e un piccolissimo aneddoto che chi è musicista qui conoscerà senz'altro, quando già facendo il musicista vivevo di musica, suonando laddove fosse possibile, tornavo a trovare i miei genitori a casa, e incontravo la mia vicina che mi diceva, oh Roberto, ciao, come stai? Bene, cosa fai? Di lavoro suono? Ah, e di lavoro cosa fai? No? Allora, è una roba che fa sorridere, ma è una roba che, come dire, è sintomatica di una mancanza di cultura e di educazione, non saprei come definirla, forse di forma mentis, per cui si prevede che chi in questo paese fa musica o è nell'orchestra del Carlo Felice, riferisco sempre alla mia vicina, no? Ah, ma suoni nel Carlo Felice? No, no? oppure non si vive di musica, invece bisogna cercare anche in questo paese di costruire realtà dove la musica sia protagonista e dalla quale si possa trarre, come dire, una, anche del profitto, no? Che è, che è basilare per poter procedere in questa direzione. mi sembra che Verdiano abbia colto, come dire, degli aspetti, no? divulgativi e di ampliamento dell'ambito musicale e torno appunto al progetto Meet the Music. Meet the Music sarà un'area dove, tra detti ai lavori, quindi discografici, editori, distributori, si potrà fare rete, ci si potrà scambiare contatti, opinioni, no? La nostra speranza e quasi certezza è che a quest'area partecipino anche coloro i quali fanno il nostro mestiere fuori da questo paese dove, devo dire, purtroppo per noi fuori da questo paese chi fa questo mestiere è, fa un mestiere normale, no? Non succede che uno si senta dire che lavoro fai, cosa fai suoni, cosa fai il discografico, cosa fai, bene, beh, sai che, è tutto consueto, come dire, consueto si può fare. Mi auguro che anche qui, e sono felicissimo che parte la Genova questa cosa perché credo che sia il primo vero appuntamento che si ponga questo tipo di finalità, no? Quindi, niente, mi auguro che tanti editori, distributori, discografici, produttori e musicisti partecipino a questa, come dire, a questo salotto dove ci si può confrontare perché credo che possa portare valore aggiunto a chi fa questo mestiere, credo che ci si possa scambiare idee e opinioni importanti. Non ho altro da dirvi se non ringraziarvi e, come diceva l'amico Massimo, diffondete il verbo. Grazie. Grazie Roberto Maragliano, direttore artistico di Magliari, d'accordo? E adesso passiamo al direttore artistico di Mondo Danza, Gelli Gallo. Rinnovo ringraziamenti come abbiamo fatto per tutti gli altri temi di questa fiera. Allora, io spendo alcune parole per spiegare come è nato Mondo Danza. Mondo Danza nasce, diciamo così, dalla consapevolezza che vi è una comunione intima fra quello che è la musica, che è l'oggetto primario di questa fiera e il movimento. Addirittura diventa poi nel tempo anche quasi una forma di terapia quella che è la danza e nello specifico la danza con lo sviluppo di tutte le varie discipline diventa la forma di educare in maniera conscia al movimento che già per nostra natura tendiamo comunque ad avere laddove sentiamo una musica, un ritmo. Quindi ci sembrava opportuno dedicare un piccolo spazio della fiera appunto alla danza. Nello specifico ovviamente l'invito è steso a tutte le scuole e le associazioni sportive della Liguria e non solo quindi di tutta Italia a livello internazionale chi vorrà accogliere questo invito e come tutti quelli che sono gli eventi legati alla danza spesso sono accompagnati dalla promozione di un concorso perché è il modo più efficace per quello che è il mondo della danza di farsi una sorta di pubblicità per cui anche noi abbiamo pensato un concorso il concorso nello specifico sarà più che da un punto di vista dell'aspetto coreografico sarà un concorso di flash mob quindi una cosa un po' un pochino diversa particolare con diciamo così l'intento di dare un accento al fatto che questa tipologia di manifestazione artistica abbatte quella che è la barriera ad esempio della dimensione del palco e quindi si entra direttamente in contatto tra artista e quindi tra attore danzatore e lo spettatore stesso quindi per ora non posso dirvi altro siamo come giustamente vi hanno già detto tutti gli altri siamo in lavoro e quindi colgo solo questa occasione giustamente per invitare tutti gli interessati a partecipare a questa piccola parentesi della fiera grazie grazie mille grazie a tutti adesso se volete sapere se volete trovate le domande salve cabona del secolo innanzitutto complimenti per la manifestazione seconda battuta la domanda è capire quale aree saranno a pagamento e quali no i concerti ci sarà un biglietto come è strutturata diciamo benissimo il biglietto giornaliero costa 15 euro poi ci sono gli abbonamenti per due giorni 25 euro tre giorni 35 chi prende il biglietto ha diritto ad accedere a qualsiasi area della fiera l'unica particolarità è destinata a chi è interessato a meet the music che dovrà avere un pass particolare per cui dovrà prenotarsi prima e quindi pagare 30 euro per poter accedere a quest'area a questi eventi di networking per il resto si potrà accedere a seminari concerti salone espositivo e tutto quanto con un unico biglietto che è quello 15 euro al giorno concerti e area tutto quanto ok grazie buongiorno a tutti volevo sapere per chi ha il sogno nel cassetto di fare musica e quindi magari è giovane e ha il desiderio di fare il cantante o il musicista da grande che spazi vengono dedicati si logicamente ci saranno non l'abbiamo detto ma il fiera internazionale della musica coinvolge anche tanti concorsi tanti festival e daremo spazio e modo anche ai contest ai programmi televisivi che oggi vanno tantissimo di essere presenti in fiera sia quelli nazionali che quelli locali nazionali abbiamo per esempio avremo la vincitrice del programma di Jerry Scotti non mi ricordo adesso il nome avremo i ragazzi di ti lascio una canzone ah the winner is era il nome eccolo e poi avremo Liguria Selection Toscana Selection Lombardia Selection che sono dei programmi televisivi che stanno portando avanti i ragazzi di Tele Liguria che sono gli stessi dello staff poi della fiera internazionale della musica e quindi ci sarà la possibilità anche per loro di esibirsi in fiera ciao buongiorno mi chiamo Luzio Alfieri Marco e sono un DJ volevo chiedervi una cosa un po' particolare quante persone capiranno il sacrificio di questo evento? speriamo che lo capiscano in tanti più possibile sono un po' timido guarda è una domanda legittima e speriamo effettivamente il sacrificio per fare un evento del genere è tanto ci stiamo lavorando in questo momento i collaboratori della fiera internazionale della musica sono 23 quindi 23 persone che stanno lavorando tutti i giorni a questo evento speriamo che possa uscirne fuori un evento piacevole per la maggior parte delle persone che costo ha questa manifestazione ecco perché è una manifestazione abbastanza grossa vedo schierato a fiera regione comune privati è una domanda delicata però posso dirvi questo nel 2013 la fiera internazionale della musica è stata finanziata totalmente da me e da mia moglie nel 2014 per il momento sarà finanziata totalmente da me e da mia moglie vedremo in futuro cosa succederà io sono Alberto Sgarlato quest'anno nella duplice veste di autore di testi per il sito musicale Distorsioni e per il sito locale Savona News nonché musicista della passata edizione del Riviera Prog con i flower flash dell'etichetta Black Widow Records dei nostri amici Gasperini e Pinta Buona io volevo fare due domande la prima per non parlare così esplicitamente e brutalmente di soldi che è sempre spiacevole se avete fatto invece piuttosto un'ipotesi degli accessi una stima delle presenze giornaliere ipotetiche dell'edizione 2014 la seconda domanda visto che il nostro Gasperini ha citato il Prog Liguria di La Spezia al quale ero presente e ha citato l'edizione scorsa di Villanova non potrebbe e mi rendo conto comunque dello sforzo del sacrificio che ci sarebbe dietro trasformarsi il film in un evento itinerante che magari l'anno prossimo potrebbe toccare la provincia di Imperia che non è ancora stata sfiorata poi tornare a Genova e così via a rotazione per il momento non abbiamo pensato a questo lo scorso anno per una serie di combinazioni abbiamo fatto l'evento a Villanova dal Benga appunto perché cercavamo una location che fosse abbastanza capiente da poter contenere tutto questo quest'anno con facendo da tramite Beppe Mistretta appunto siamo arrivati a Genova abbiamo per adesso siamo comodi qui perché noi siamo di Genova ci auguriamo di poterla mantenere qua a Genova però vedremo cosa succederà per le presenze noi aspettiamo ci aspettiamo 20.000 persone almeno però vedremo appunto in tutto in tutto vediamo se riusciamo a farne venire qualcuno in più vedremo se noi vogliamo stare bassi per non mi presento sono Mario Di Gioia presidente di Asso DJ giovedì scorso siamo stati in un incontro iniziale quindi posso annunciare che nell'occasione del venerdì della prima giornata abbiamo convenuto con le quattro associazioni dei DJ a livello nazionale con cui abbiamo sottoscritto l'accordo per l'utilizzo delle licenze copie a lavoro organizzeremo un convegno a livello nazionale con tantissimi naturalmente DJ sia locali sia a livello nazionale con la speranza di avere anche degli artisti di un certo spessore quindi questo lo possiamo confermare ufficialmente abbiamo avuto anche la disponibilità da parte della SIAE del settore DJ che saranno presenti anche loro naturalmente a discutere a dibattere delle questioni che riguardano l'attività professionale dei DJ visto che comunque i DJ sono riconosciuti soltanto come attività di carattere professionale quindi non a livello direttantistico grazie buongiorno a tutti il mio intervento sono Alessandro Pollaro presidente di Liguria in soprattutto volto intanto ringraziare Verdiano per aver pensato a noi nel momento in cui c'era bisogno o si è sentito il bisogno di dare un coordinamento uno stimolo a quello che poteva essere l'attività di networking che è un'attività che indubbiamente non sposa tanto l'aspetto della passione vera e propria artistica ma se fatto come a noi piace fare il buon business con passione a quel punto diventa un connubio vincente personalmente tra l'altro condivido anche la passione per la musica quindi chiaramente ci riesce ancora più facile parlare di queste cose io volevo fare tanti auguri chiaramente ci impegneremo affinché anche noi possiamo dare un nostro contributo non solo a livello valoriale attraverso comunque la celebrazione di eventi collettivi destinati appunto al networking ma anche attraverso un contributo numerico perché Ligurei inconta oltre 800 contatti in Liguria afferriamo la federazione nazionale che ne conta oltre 21.000 per cui fondamentalmente chiaramente siamo già attivati affinché questi 20.000 siano facilmente raggiungibili diciamo anche con nostro piccolo contributo quindi io faccio tanti auguri alla manifestazione certamente siamo presenti già qua oggi siamo in quattro il vicepresidente Valeria Revella e Alessandra Samaro siamo tutti impegnati per cercare e Giuseppe Franceschelli scusate siamo tutti impegnati appunto per cercare di dare veramente un grosso impulso un grosso stimolo perché Genova Genova merita questo e merita imprenditori come Verdiano che possono veramente attuare queste cose grazie mille grazie Massimo Morandi manager a Yamaha Musica Europe Branch Italy ovviamente l'anno scorso abbiamo partecipato volentieri a questa manifestazione che si sta rivelando veramente interessante e anche molto ricca culturalmente parlando personalmente Gianluca Tagliavini personalmente appassionato di Prog quindi ancora più legato a questa a questa fiera bello lo sviluppo che sta avendo come Yamaha stiamo seriamente pensando di partecipare non anticipo nulla nessuno sta anticipando nulla ma dico solo questa grazie grazie Verdiano grazie a tutti siamo tre ragazzi i creatori del sito Oggi che fare e niente siamo nuovi con una nuova esperienza per una collaborazione con questo questo evento del film speriamo di essere utili e di di poter riuscire a a portare più gente possibile anche noi a questo evento grazie 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 allora Verdiano ti ha la parola bene oltre a ringraziarvi di nuovo vi do appuntamento alla prossima conferenza stampa sul film durante la quale speriamo di darvi tutte le informazioni necessarie sarà il 5 maggio speriamo sempre qua nella sala stampa della fiera di Genova grazie a tutti 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 grazie a tutti